Come associazione 360 Pescara e Abruzzo vi abbiamo proposto che è un'iniziativa questa sera anche per riprendere il titolo di un'attività che abbiamo portato avanti per anni, Pescara e Abruzzo, della presenza di un'area culturale e riformista che viene svolta a livello nazionale da tanti amici e tra questi tre iniziatori c'è il presidente Enrico Letta, noi cominciamo qui in Abruzzo nel 2007 quando fu fondato il Partito Democratico e fin dalla nascita del Partito Democratico ci pare opportuno fare in modo che questo cantiere fosse animato anche dall'impegno di una forza che non pensava tanto agli steccati di partenza perché uno dei problemi di questo lungo cantiere del Partito Democratico è stato sempre quello di avere ancora le componenti legate alle tradizioni storiche novecentesche ma quello di animare una forza orizzontale che pensasse soprattutto all'Italia del futuro, questa è la caratteristica che ha sempre caratterizzato un impegno che prima che politico era un impegno culturale, un impegno riformista ma in che senso? Di mettere in campo una serie di persone ma soprattutto una serie di idee per tornare a far riaffacciare nella politica pubblica di questo paese il valore della crescita e dello sviluppo. Io ricordo che da questo punto di vista il libro bianco, la prima idea da cui si partirea un librino pubblicato per la collana Le Saggine Donzelli, se ricordo bene Francesco, intitolato La Comunità Competitiva, cercando di mettere insieme due termini che sembrano appartenere a due tradizioni diverse. Competere sembrava il verbo di una sorta di arruinismo sociale con una certa idea della competizione quasi come una lotta per l'affermazione dei migliori e forse a danno di chi non ce le faceva, e invece l'ideale comunitario, l'ideale fondato soprattutto sul riconoscimento dei bisogni. Questo libro che era anche in parte l'agenda di un percorso svolto ma una serie di proposte per il futuro, partiva dall'idea che il vero competere è un dirigersi insieme, un dirigersi insieme con le ambizioni, i progetti, le idealità per fare comunità, perché nella stessa idea competizione proprio nella sua origine etimologica c'è questa idea dell'unione, del cum, cioè dello stare insieme. Queste sono le idee da cui siamo partiti e questa sera ci siamo voluti ritrovare in questa assemblea, che è un'assemblea che è aperta al contributo di quelli che vorranno intervenire per ragionare su quello che è lo scenario anche politico nazionale, che è caratterizzato da questa novità di un governo, di un governo che può essere anche detto delle larghe intese, in parte un governo che ha cercato di concorre forze storicamente diverse, politicamente diverse, che torneranno di qui a qualche tempo a ridividersi per cercare di fare qualcosa in comune per l'Italia. E ragioneremo di questi temi con appunto quelli che vorranno darci il loro contributo, con il contributo speciale di Luciano D'Alfonso e poi avendo con noi un amico di Antica Data, che è Francesco Sanna, parlamentare sardo e tutti quanti con la speciale similitudine che c'è sotto molti punti di vista, culturali, antropici tra l'Abruzzo e la Sardegna, ma soprattutto l'uomo che più da vicino per tanti anni ha animato l'impegno politico di Enrico Letta. Io ricordo fin dal tempo in cui Enrico, giovanissimo, divenne poco più che 33 anni, divenne ministro dell'industria e sviluppo economico, volle Francesco come capo della sua segreteria tecnica e lo ricordo molto impegnato in quel ministerone di Pia Vento a cercare di risolvere complesse partite energetiche di quegli anni e poi nel suo impegno, prima con il consigliere regionale del Sardegna e poi come parlamentare non ha mai fatto mancare il suo contributo di idee ed oggi si trova in una speciale cabina di regia in un camerino molto operoso direi a Palazzo Dici come consigliere politico del Presidente. Io avrei cambiato solo due parole ancora su quello come 360 gradi, 360 che lo scusa vogliamo fare in Abruzzo, riprendere vi dicevo il filo di questa attività su alcuni temi e in particolare noi stiamo pensando da un lato a fare una giornata nazionale che in questo periodo sta decidendo di impegnarsi soprattutto a livello locale, questa è la ragione anche per questa ripresa di attività facendo venire un po' meno l'impegno nazionale proprio perché Enrico Letta ha deciso in questo momento di non essere un uomo di parte ma di essere un uomo interamente al servizio delle istituzioni e per questa ragione noi cerchiamo di impegnarci secondo queste idee, secondo questi profili soprattutto nel territorio che poi forse è anche l'ambiente più vivo per maturare le idee e maturare le proposte. E allora in una regione come l'Abruzzo ci abbiamo pensato e cerchiamo di fare una giornata nazionale attorno ai temi noti della Green Economy, su questo c'è l'impegno di un nostro speciale amico che è Enrico Porchi che è stato il presidente delle comunità montane d'Italia che ha un'idea generale della Green Economy ma noi vorremmo cercare di definire il tema della Green Economy nello specifico a Bruzzese perché noi chiaramente ci siamo dati una notorietà a livello nazionale per la nostra lotta contro tutto ciò che è inquinante, contro tutto ciò che rischia di danneggiare il nostro ambiente ma poi dobbiamo trovare un modo che al momento non c'è, non esiste di valorizzarlo questo speciale sistema naturalistico perché sia una premessa di sviluppo e di prosperità. quindi una giornata in questo senso e poi vorremmo, sarà anche un cammino di accompagnamento verso le elezioni regionali, vorremmo organizzare un momento per mettere insieme più soggetti l'impeditoria, i sindacati, tutte le parti sociali, le associazioni dei professionisti per ragionare come sia possibile applicare in Abruzzo una raccomandazione europea che è la famosa garanzia per i giovani, cioè è uno strumento che prevede che per tutti i giovani, e ci sono due fasce tra i 25 e i 30 anni sotto questa quota, terminato il loro percorso formativo o terminato l'ultimo rapporto di lavoro ci sia una possibilità di effettuare almeno un'opportunità di tirocinio per quattro mesi per avere la possibilità di avvicinarsi in qualche maniera nel mondo del lavoro. Questa è una raccomandazione comunitaria che non è di oggi, è una raccomandazione di ieri che in alcuni territori dell'Europa è una raccomandazione che è già operante e che da noi invece è solo un tema da titoli di giornale. Ecco noi vorremmo concretamente operativamente, anche riconnettendoci a quelle che sono le tematiche tipiche 360, attivare un confronto su questo per vedere una proposta che poi possa diventare anche una proposta operativa da sottoporre anche a chi dovrà occuparsi di governare questa regione e quindi penso anche a chi siede alla mia destra in modo che si possa attuare realmente questo tipo di impegno. In questo vi dicevo come è il 360, pensiamo a quelle forze che sono quelle giovanili e anche allo specifico femminile che a livello nazionale sono i temi principali di impegno della nostra associazione politica. Detto questo io vi ringrazio per questa partecipazione così cordiale ed affettuosa, anche per la pazienza che avete avuto per la rituale mezz'ora che è trascorsa rispetto all'orario inizio, per questo mi scuso e a questo punto dichiarerei aperto il momento del contributo e del dibattito. Quindi come primo intervento, vedo già pronto però ti devo passare la schiera se non funziona, il sindaco di Città Sant'Angelo Gabriele Florindi quindi che ringraziamo per la sua speciale amministrazione. E' diventato difficile anche parlare, una volta era più facile, forse devo rimettere da non so quanto sia, per la schiera per la mattina e la schiera, per la schiera. Esa parte della schiera. È una volta è importante. Siamo arrivare, perché poi insomma. Poi smonchiamo per la schiera. Tendo. Poi che prendono. C'è tutto il pallone per la schiera. Cosa è una cheiera? Poi? Ma sono? Va bene, allora io ringrazio dell'opportunità che mi viene data come sindaco questa sera di far sentire il mio lamento a due orecchie, diciamo, autorevoli, come Francesco Sanna e innanzitutto chiarisco anche un altro aspetto, perché siccome si sta parlando in questi giorni di Regione e compagnia, va anche la mia presenza al tavolo di presidenza questa sera, cosa che non avete mai visto, non è che ha designato una candidatura regionale, io non mi interessa per i candidati da Città Sant'Ange come sindaco perché devo fare il mio, al di là di tutto ciò, io volevo, diciamo, parlare di alcune cose importanti che riscontro ogni giorno facendo il conto con i problemi che attanagliano il Comune di Città Sant'Angelo, che per mia fortuna è uno dei comuni più virtuosi che stanno nella provincia di Pescara, figuriamoci quelli che hanno più difficoltà, abbiamo le stesse difficoltà del Comune che non ha un euro in cassa, io oggi, come oggi, ho la possibilità di appaltare, cosa, 10 milioni di euro di lavoro, 10 milioni di euro di lavoro necessarie per la messa in sicurezza del territorio, perché ho delle zone rosse dal mio piano di protezione civile, alluvionale, ho delle zone R4 di Frana e ho addirittura pure, come tutti gli altri comuni, la impellenza di mettere a norma, sotto l'aspetto sismico, le scuole dove ci stanno i bambini, qui ho questi fondi Cerion e quindi ho chiesto con forza ai nostri deputati di poter farsi portavoce all'interno del lavoro, della nuova legge finanziaria di stabilità affinché si abbiano delle derbe per fare questo, non chiediamo che il patto di stabilità venga sbloccato perché dobbiamo fare man bassa dei soldi e fare opere inutili, dobbiamo mettere in sicurezza il territorio, dobbiamo necessariamente rimettere in sicurezza le strade che sono diventate dei colacroni, strade per le quali ogni giorno riceviamo denunce di assicurazione coerente diretta al dirigente e al sindaco e siamo arrivati al paradosso che nessuna assicurazione vuole più assicurare i comuni. Io l'ultima gara d'appalto che ho fatto con un broker, ho giudicato della gara che è una franchigia di 30.000 euro, capite bene? Se poi ci mettiamo anche il discorso della crisi e quindi qualcuno ci marcia pure come spediente andiamo veramente con la bancarotta. Ma al di là di questo è necessario anche assicurare l'assistenza alle persone più deboli. Noi abbiamo avuto un taglio da parte della regione Abruzzo notevole sull'ambito sociale per l'assistenza ai più deboli. Quando parlo dei più deboli parlo dei bambini gravemente malati, parlo degli anziani, parlo dei portatori di handicap che purtroppo non mancano. E con questo noi abbiamo fatto una scelta forte di rinunciare all'altro e di non far mancare questa situazione. Sì, posso anche dire a un cittadino, mi dispiace, non posso mettere il palo della luce perché non ho i soldi, ma non posso dire a una mamma e un padre che già colpita per aver ricevuto un portatore di handicap che non ho i soldi. questo non è possibile. Non è possibile nemmeno in un momento di crisi così forte perché non è assolutamente ammissibile. Ecco perché io dico a Francesco Sanna e grazie per essere qui oggi perché sì, dobbiamo parlarne di queste cose perché sento il distacco, e questo non è polemico ma è purtroppo realtà. Sento il distacco tra la base e Roma, anche se siamo vicini. E questo non è possibile. Noi abbiamo ingoiato, noi del PD abbiamo ingoiato la volontà di fare un governo di emergenza nazionale facendo la coalizione larga con la PDL, ma dobbiamo dare delle risposte certe, dobbiamo far ripartire l'economia, dobbiamo detassare il lavoro, dobbiamo rifar partire in qualsiasi modo le aziende che annaspano. Si sta arrivando per l'assurdo che i comuni non hanno più la possibilità di fare le gambe a parte perché non ci sono più titte che hanno i ducchi apposti e quindi che non possono partecipare alle gambe a parte del PDL, oppure se fanno i lavori non li possiamo pagare. Quindi bisogna trovare questa soluzione urgente a questo discorso. Dopodiché fare la legge elettorale perché vogliamo delegare a Roma coloro che decidiamo noi e non coloro che decidono i partiti. Questa è un'altra cosa importante. Non è che dovevamo aspettare che Guillo venisse in Italia per ricordarci queste cose fondamentali e importanti. Dobbiamo recuperare il tempo perso, dobbiamo recuperare le cose di credibilità con i nostri cittadini. Quindi io potrei dilungarmi per ore perché ripeto, questo discorso è un discorso che vivo tutti i giorni sulla mia pelle. Io ricevo il lunedì mattina, il mercoledì macchina e il giovedì pomeriggio. Quindi dedico tre giorni per il ricevimento dei cittadini. Ormai non ce la faccio più perché non vengono per chiedermi il palo della luce o il bidon dell'immondisi, vengono per chiedermi il lavoro. Il lavoro che non c'è ed è umiliante per un sindaco spiegare alle spalle e dire non posso aiutarti perché non so cosa fare. Questo è quello che oggi dobbiamo fare, dobbiamo pagare e non è giusto perché siamo in prima linea, dare almeno una speranza. Gente che si umilia perché è gente che viene, sì nei comuni ne abbiamo tutti coloro, quelli che vengono tutti i giorni a Città Santana si chiamano i figli del comune, ma le persone che non sono mai entrate in comune perché hanno la necessità e hanno il bisogno, vengono e si umiliano di fronte al sindaco. Io ho avuto persone, i miei coetanei che mi hanno chiesto di comprare i libri dei propri figli perché non potevano tornare a casa dalle proprie mogli senza i libri. Gente onesta che ha sempre lavorato e non ha fatto stravizi né il gratto e vinci né altre cose. Questa è la realtà, dobbiamo urgentemente uscire da questo tunnel, non ce lo meritiamo come nazione, non ce lo meritiamo come classe politica. Quindi con voce forte, con grande cuore chiedo a Francesco Sanna di riportare alla più alta carica dello Stato il Presidente del Consiglio letta questa nostra richiesta e ringrazio tutti coloro che mi hanno voluto ascoltare. Grazie. Applausi. 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 Buonasera, buonasera a tutti. Qui i potenti mezzi della provincia sono quelli che sono, ma facciamo volentieri due passi per venire all'unico microfono funzionante. Per dire cosa, per naturalmente salutare e ringraziare quanti hanno pensato a questa occasione di incontro e soprattutto per ringraziare voi che gremite questa sala. Un ringraziamento che dal mio punto di vista è oggi duplice perché nessuno dei presenti impegnato in politica sfugge in questo fatto, ossia che oggi come oggi la politica vive agli occhi della pubblica opinione un momento difficile, di scarsa credibilità e non c'è bisogno di scomodare la loro logica dei sondaggi per rendersi conto di questo. Mi piace per esempio citare a riguardo un grande pensatore contemporaneo che si chiama Teodorov, il quale sostiene che oggi come oggi non ci sarebbero più differenze fra destra e sinistra, circostanza su cui peraltro non sono d'accordo, ma la differenza è fra la democrazia e il populismo perché oggi come oggi in un momento appunto di crisi così difficile, così come ad esempio raccontandoci dal sindaco, dalla prima linea della pubblica amministrazione che deve fornire risposte, ecco che a fronte della difficoltà di fornire risposte si assume un atteggiamento distruttivo, tutti fanno schifo, tutti sono uguali, tutti sono incapaci, però occorre una risposta, visto che abbiamo, non avevo le sanna vicino al Presidente del Consiglio di Rigoletta, mi piace per esempio ricordare questo breve ma per me molto significativo passaggio che penso a molti dei presenti ricordi, ossia l'incontro in sede di formazione del governo fra Rigoletta e la sua delegazione e quella del Movimento 5 Stelle, la grande novità di questi giorni, di questi mesi, di questo anno sostanzialmente, con l'invito di Letta a mescolarsi, perché a cosa serve in fine conti il consenso se non lo si utilizza, se non ci si pone l'uno di fronte all'altro? In un certo senso questa è anche la riflessione dal mio punto di vista su cosa diavolo è la politica, io da un po' mi interrogo su questa questione che non è roba semplice, però penso che in fine conti una risposta sia agevole, perché la politica è stare l'uno di fronte all'altro, confrontarsi dialetticamente senza avere paura dell'altro, del prossimo, è appunto mescolarsi, perché una sintesi è diciamo obbligatoria. E mi piace anche pensare che, visto che il nostro Signore ci ha fornito di due orecchi, di due occhi e di una bocca, una peculiarità, una caratteristica, l'uomo politico deve essere quella della capacità di ascolto e possibilmente, ovvio, di fornire risposte, perché se la politica è anche oggi come oggi, dire questa fase è appunto così difficile, è magari occasionalmente il luogo di loschi, stradagemmi, è più spesso il modo in cui si perseguono delle nobili causa, il bene comune sostanzialmente. E poiché il titolo di questo incontro è dai conflitti alle risposte, mi piace anche fare questo piccolo passaggio su una riflessione che sto maturando all'estito della mia esperienza in corso nel palazzo al di là di questa piazza, cioè il comune di Pescara. È stato in qualche modo anche accennato l'intervento del sindaco di Città Sant'Angelo e di Marco Presutti all'inizio, ossia la green economy, un tema molto ricorrente nel dibattito pubblico, ancora più calzante in una regione come l'Abruzzo che viene pubblicitariamente venduta come il polmone verde d'Europa. E senza nessuna suggestione ambientalista particolare, ma solo all'estito di un'analisi spassionata e oggettiva della realtà, io ritengo che oggi come oggi il modello di sviluppo teso e volto al consumo irrefrenabile, sfrenato di suolo, non sia più accettabile. Il suolo è un bene unico che non può essere, diciamo, recuperato una volta in cui si costruiscono metri cubi su metri cubi e si rimangono per le generazioni future. Però, sottolino questo con molta chiarezza, non ci sono, come dire, metri cubi buoni e metri cubi cattivi, ci sono metri cubi utili e metri cubi inutili. In Italia, è un dato che mi ha colpito molto e lo riferisco anche a voi. Oggi, per esempio, esistono circa 3 milioni e mezzo di vani uomini e significano anche città di vita, con riflessi, per esempio, anche sulla pubblica sicurezza, perché voi immaginate un quartiere sorto dal nulla in cui non ci abita nessuno. Esso è evidentemente destinato a divenire un luogo di alienazione, di solitudine. non so, la famosa teoria della finestra rotta, una teoria sociologica americana degli anni 60, a proposito della vita delle città. Poiché le città non sono militarizzabili, non è pensabile controllare ogni angolo di una città, ecco che la sua, la manutenzione delle città diviene centrale. La manutenzione delle città è affidata in qualche modo a tutti noi. La teoria della finestra rotta significa preservare il corredo, il tessuto urbano, evitando piccole mancanze, una finestra rotta, che poi diventano due finestre rotte, tre finestre rotte, quattro finestre rotte, eccetera. Concludo questo intervento, come dicevo, una riflessione nata da questi dati che mi paiono oggettivi. Credo che sia tempo di ripensare il modello di sviluppo che c'è stato. Io personalmente sono molto convinto di quelle che non sono solo teorie, ma insomma sono la punta più avanzata della urbanistica contemporanea, che è la cosiddetta urbanistica volume zero, che significa cessare il consumo di suolo, cessare questo spesso inutile consumo di suolo, per recuperare l'esistente, per valorizzare il patrimonio immobiliare che già esiste e per evitare inutili appesantimenti. Questo anche nell'ottima naturalmente dell'efficientamento energetico e della qualità e della vivibilità delle nostre città. Vi ringrazio. Grazie a uno dei più giovani dei nostri amici, anche se in realtà è buonissimo, ma è già considerato un'area basso, il segretario dei partiti di quella città, è Antonio Tessare, a quale ha la parola. Prima saluto, una cosa di simmetria, c'è il disegno di questa comunità regionale che ci ha lasciato un'amministratura, che si chiama, è la voce che è quella che è un'area di crisi, un'area di crisi, un'area di crisi, un'area di crisi. Comunque ha salutato il Rettore Crescenti. Buonasera a tutti, ringrazio Marco Presutti che ha dato la possibilità attraverso questa associazione 360 che oggi ci dà la possibilità di questo incontro e soprattutto di ascoltare Luciano D'Alfonso e Francesco Sanna. Un'associazione, quella di 360, che al contrario di altre associazioni punta soprattutto sulla formazione politica valorizzando il merito e la competenza. Un'associazione che fa politica partendo dai territori e ovviamente non si può non costruire un processo politico attraverso la mediazione ma soprattutto il coraggio. Lo stesso coraggio che possiamo ritrovare e io comunque ho ritrovato attraverso una finanziaria sicuramente difficoltosa ma che rispetto al passato sicuramente ha analizzato un trend diverso. Quello che però maggiormente oggi stando qui a Pescara, soprattutto in quella che poi è la nostra regione, è quello che noi giovani soprattutto cerchiamo. Noi giovani vogliamo, chiamiamo la nostra regione, vogliamo viverci nel nostro abruzzo. Un abruzzo competitivo però passa soprattutto attraverso alcuni processi come quello della banda larga, poi quello delle infrastrutture, come quello del welfare e come quello soprattutto di dare un nuovo senso anche alle aree svantaggiate della nostra regione senza lasciare nessuno indietro. La difficoltà della politica sta proprio nel dare risposte. Per fare questo, come spesso dice Luciano, dobbiamo ricreare una comunità e una comunità la si fa proprio attraverso questi incontri e questi dibattiti in cui abbiamo la possibilità di esprimere quelle che sono le nostre opinioni e poi di metterle in chiede. Una comunità però passa anche attraverso il coraggio di stabilire quali sono le nostre priorità. Io nel mio piccolo oggi qualche priorità ho voluto darla e quella della banda larga e delle infrastrutture, per me che vengo comunque da un territorio vantaggiato che troppo spesso perde quelle che sono alcune risorse perché dobbiamo avere anche un po' di coraggio in più, dicendo che questa regione ha anche bisogno di una città metropolitana che è quella di un'area metropolitana, quella di Pescara-Chiedi e di anche nuovo slancio a quelle che sono le città territorio, le città distrettuali a cui troppo spesso mancano risorse. Per fare questo serve appunto dare tutti quanti insieme e quindi ringrazio nuovamente Marco per questo incontro stabilire quali devono essere le priorità. Grazie a tutti. Grazie ad Antonio. Io prima l'ho chiamato in causa sulla questione di garanzia per i giovani ma adesso vi voglio finire un altro spunto, a questo che abbiamo bisogno. Due giorni fa il Cone è stato in vertice, l'Italia cerca, perché questo governo ha presenuto da Nicoletta sta rilanciando fortemente il ruolo dell'operazione dell'Italia nei battagli per cogliere ingresso in quello che resta in quella parte dell'Europa. Questa è una grande opportunità per questa parte dell'Ariati, questa parte dell'Italia e le schienze delle Marche. Spapera prontissimo ha ricevuto già questa opportunità, questa cosa. Le Marche ci sono, probabilmente manca l'Italia. Io sono contento per questa bella occasione perché non c'è la tristezza di alcune riunioni di altro ambiente di partito, convinto come sono che le moltitudini che pensano sognano, progettano e rappresentano questioni sono l'anima della democrazia. Francesco, grazie che sei venuto, onorevole Sanna, però mi prendo un minuto per fare una considerazione ridente in ordine anche a questa disfunzione che c'è. Vedete, noi abbiamo assistito in questi mesi a un dibattito riguardante il superamento dell'attuale organizzazione istituzionale del nostro Paese. Province sì, province no, l'ingrandimento di alcune città, il superamento di un livello, diciamo, di piccoli comuni. Io non ho simpatia né verso la politica degli acronomi né verso certe stagioni animate solo dalla riunionite. Si insegue l'esistenza in vita solo perché si convocano riunioni. E mi interessa entrare nel merito. Di sicuro in Italia, anche per certo dibattito politico, si è demolita ogni capacità di funzionalità del livello di governo delle province. Tant'è che siamo quasi tutti d'accordo nel ritenere che il livello dimensionale e istituzionale della provincia ormai non serve più a nessuno. È quasi il minimo comune denominatore di qualsiasi dibattimento politico. Io da parte mia, a volte anche in solitudine, ho pensato che farebbe bene la politica e anche il dibattito istituzionale a ritrovarsi attorno ad una categoria, quella dell'utilità e della convenienza. La cittadinanza, la democrazia, le comunità capiscono le istituzioni quando producono convenienza, funzionalità. Se le istituzioni vengono svilitte da fuori e da dentro e non fanno rinvenire il benché minimo livello di funzionalità. È chiaro che poi c'è la folla che ulula con o senza la competenza di un patroni griffi, ieri ministro, oggi sottosegretario. Poi è chiaro che diventa il bersaglio il livello di governo della provincia che non serve a nessuno. Adesso manco più un dibattito si può fare presso la sala dei marmi della provincia. Questo macchinario che si è insediato di sicuro avrà prodotto il sorriso di chi ha fornito l'attrezzatura. Di sicuro ci sarà stato il sorriso di chi ha fornito l'attrezzatura. Ma è impossibile che non si riesce con un minimo di fissità. Non voglio arrivare a quello che diceva Gheddafi quando venne applaudito a Roma, che la democrazia è un fatto di seduti, vi ricordate voi? Ma che non si riesca a dare e dire la propria opinione da una postazione che ha fatto la storia dell'economia della nostra provincia. Qui ci sono seduti davvero presidenti non casuali. Qui c'è stato uno come Patucca che ha concepito la provincia, la banca della provincia, gli investimenti della provincia, le infrastrutture della provincia. Con questo mi voglio aiutare Francesco a dire che c'è una questione che riguarda anche la riflessione interna al partito, al PD e la riflessione interna allo spazio di governo del nostro paese. Noi dobbiamo riprecisare che cos'è che serve all'economia. E io voglio dire la mia opinione. Che cos'è che serve al rapporto riuscito tra economia e imprese, tra democrazia e cittadini, tra economia e sistema a filiera dei diversi livelli istituzionali. Sono d'accordo con Del Casale quando afferma che la politica si fa rispettare, se sa dare un contributo preciso, sullo stabilimento delle priorità. Io temo che le Iene possano venire in Abruzzo e magari inseguire questo o quell'eletto o della Regione o della Camera, dei deputati o del Senato della Repubblica e magari chiedere con il microfono. Lei, eletto, su che cos'è che si sta battendo in questa settimana o la prossima settimana? Che cos'è che la vede impegnata? Io penso che molti balbetterebbero perché c'è un difetto di confronto sulle questioni vive della nostra comunità. Io mi voglio distinguere col vostro aiuto e vorrei contribuire a fare un'agenda anche della venuta di Francesco Sannaqui e domani del suo lavoro a Roma come collaboratore politico di Enrico Lenta. Prima questione, Francesco. È immaginabile che si completi quello sconquasso che pure ha affascinato pezzi della politica italiana circa la revisione dell'organizzazione statuale del nostro Paese, prendendo due mira e ho detto per certo verso a ragione le province. È immaginabile mettere all'ordine del giorno la riorganizzazione delle Regioni senza la casualità con la quale abbiamo assistito al dibattito sul superamento dei piccoli comuni. Così, quasi con un pugno allo stomaco quando un anno fa ogni giovedì si poneva all'ordine del giorno il tema dell'uccisione dei piccoli comuni. È possibile immaginare, visto che siamo entrambi di provenienza cattolico-democratica, intanto una San Pellegrino del pensiero, prima di arrivare a utilizzare le carte intestate dello Stato, qual è il livello di piccoli comuni che portiamo a convergenza, ad alleanza di funzioni? Qual è l'incentivo che deve spingere e stimolare a che i piccoli comuni si possano combinare tra loro? Ma a me interessa adesso il tema delle Regioni. Possiamo immaginare un sistema incentivante che faciliti l'alleanza delle Regioni. Adesso non voglio essere sarcastico. Anche in Abruzzo ho visto una sarabbanda di parole dal tono europeista, scavalcando l'emergenza dell'alleanza nello spazio nazionale dell'alleanza delle Regioni, immaginando che il semplice convegnare in ragione dell'Europa sia la risposta al bisogno di alleanza delle Regioni. Perché adesso io vi dico qual è l'emergenza che convoca le Regioni a mettersi insieme. Allora, io stabilisco che l'Abruzzo, le Marche e il Molise sono il livello minimo di prossimità per dialogare con le ferrovie affinché le ferrovie non ci prendano più in giro. E non mi si può dire che le Camere di Commercio organizzano i biscotti bagnati di rum e sarebbero il sostituto di quello di cui abbiamo bisogno noi per dialogare progettualmente in termini infrastrutturali con le ferrovie. Qui c'è un buco nero che comincia dalle Marche e finisce al Molise per quanto riguarda la comodità e la velocità ferroviaria. Non dico solo velocità perché so bene che non si può portare dovunque da subito l'alta velocità ferroviaria, ma la comodità ferroviaria, come contrario dell'interruzione dello spostamento ferroviario, è concepibile a favore anche di questo trapezio che comincia con le Marche e si conclude con il nord ultimale della Puglia. Questo si può fare, alla condizione che cessi la stagione delle solitudini, alla condizione che al cinziedo in via Parigi a Roma ci si vada, non per marcare una presenza. io vedo dei passeggianti di ventura, io quando vado a Roma lascio la macchina ad un parcheggio che si chiama International Garage in via Parigi, casualmente al numero civico prima ci sta la sede del cinziedo che è la conferenza delle regioni. Io vedo dei passeggianti di ventura lì, naturalmente ogni settimana sono diversi, ci va il Presidente, quella successiva l'assessore, quella successiva ancora ci va il Capodipartimento e poi il dirigente. Come se fosse un obbligo di Crizia a marcare la presenza, dimenticando che invece lì va coltivato come il sentiero di una fatica, che significa concludere portando a casa la risorsa normativa o finanziaria che tu ti aspetti, come ha saputo fare l'oggi il discusso Formigoni di ieri, ma Formigoni non ha sbagliato un colpo su questo e non solo per la grandezza demografica di quella regione, ma anche per la chiarezza degli obiettivi. Allora io dico, si può affidare questo alla bravura dei singoli? Al colpo di fortuna dei singoli? Alla competenza anche di alcune stagioni dei singoli? O non è il caso, convinti come siamo, di organizzare un meccanismo oggettivo che faciliti l'alleanza delle regioni. Francesco, lo dico adesso al tuo essere democratico, evitiamo di farci scavalcare da Zaia, da Maroni e dal giovanotto del Piemonte, non mi ricordo come si chiama, perché è stato un errore, lo so che si chiama Cota, è stato un errore che abbia battuto l'abpresso che era bravissima. Noi dobbiamo essere anche capaci di primati nel sollevare le questioni, nel portarle avanti, è così che la gente si riaffeziona, è così che è accaduto quando è accaduto anche in questa regione, quando c'è la coincidenza tra l'intuizione e la battaglia e quando c'è la continuità nella battaglia fino al raggiungimento del risultato. Allora, evitiamo che sulla materia dell'organizzazione statuale come configurazione di spazi dello Stato ci sia la casualità del giovedì di un anno fa. Ogni giovedì dovevamo leggere il Sole 24 Ore, se ce la faceva, per capire qual era il singhiozzo riformatore normativo riguardante il livello di organizzazione dello Stato a partire dai territori più vicini ai cittadini. Nettiamo allora nel giorno l'alleanza delle regioni, perché è un'emergenza ormai. In Abruzzo, caro Francesco, ne hanno parlato financo le associazioni degli arbitri che serve più infrastrutturazione. Gli industriali, gli artigiani, i commercianti, i medici, hanno tutti ragione a occuparsene, ma se ce ne occupassimo in sede politica propria, per esempio modellando un'alleanza delle regioni prossime per inanellare una serie di obiettivi, comincio dalla partita delle infrastrutture, ma perché l'organizzazione di un livello adeguato di offerta sanitaria, voi pensate che si possa ancora esaurire nello spazio di una regione del 1975, dal 71 al 75, cioè l'offerta di qualità del prodotto salute, voi pensate che ancora possa coincidere con l'esaurimento nello spazio di una regione preesistente? Io immagino che il sistema sanitario regionale debba essere concepito di più regioni alleati insieme, perché o lo fa la politica, il progetto della politica, o lo fa il consumatore trattino, cittadino, trattino, persona, paziente. Mio padre ha deciso lui di andare all'ancisi di Ancona perché sapeva che funzionava. Allora organizziamo noi un sistema di alleanze regionali facendo in modo che dovunque c'è la bravura, lì ci sia il massimo dell'investimento, il massimo dell'organizzazione, il massimo della dotazione, organizzando delle verticalità di specializzazioni laddove la specializzazione è quella che si cerca. Insomma, ingrandiamo il nostro pensiero. Oggi Matteo Renzi, in una bella, finalmente, intervista completa, ragionata, quasi esaustiva, spiega che cos'è il cambiamento che lui vuole realizzare. Va oltre la categoria del sé e affronta il tema del cambiamento che riguardi sia gli oggetti di questa organizzazione paese, sia la sfera di ciascuno di noi. Organizziamo intanto l'ingrandimento della dimensione della quale ci occupiamo. Appena detto per la sanità, a volo d'angelo, ma perché sul sistema universitario? Ma dove sta scritto che uno debba trovare tutto quello che serve nello spazio di una regione preesistente? Se poi noi riusciamo a fare il trasporto di qualità, nessuno porrà questione. L'importante è che ci sia un'offerta di qualità. Se il tema è la salute, per quanto riguarda la salute, se il tema è l'educazione e la formazione, per quanto riguarda la formazione, ma anche il sistema di attrazione di investimenti, il sistema dell'arrivo delle imprese. Ma qual è il problema di andare a lavorare anche appena dopo Tortoreto o appena dopo San Salvo? L'importante è che arrivino le imprese, che ci sia un sistema di alleanze regionali capaci di fare attrazione, di promuovere un menù di attrazione. Io dirò nella battaglia elettorale che faremo il menù abruzzo, ma ho in mente un menù di un territorio più grande dell'Abruzzo per fare arrivare le imprese, dicendo alle imprese che noi saremo i più bravi per avere i loro signori. Non accadrà più quello che è successo adesso, anche con ottocentesche attività imprenditoriali, tipo i talcementi di scafa. Ma può essere che un insediamento che ci sta dal 1898, nell'arco degli ultimi otto anni, sette anni, non è stata mai più avvicinata da nessun livello istituzionale. Io vengo da un'esperienza di governo e di politica durante la quale ci parlavamo con le imprese, anche quelle che facevano frutti dicendo che vi serve, come procede. Nella Valà del Pescara i sindacati lo stanno sollevando adeguatamente, è un cimitero di mortalità imprenditoriale. È quello che abbiamo messo in piedi negli anni 80. Adesso si è completamente capovolo. E io non mi rassegno al fatto che l'internazionalizzazione delle vicende economiche o la globalizzazione debba produrre soltanto mortalità. Perché ho un'idea gigantesca della risorsa normativa e della risorsa amministrativa. E quando le imprese sono serie, tipo la famiglia Pesenti, che si informassero qual è il rapporto di collaborazione tra la famiglia Pesenti e Bergamo, molta parte delle attività espositive, artistiche e culturali di Bergamo, Museo di Arte Contemporanea, molta parte delle attività culturali, artistiche di quel museo è finanziata dalla famiglia Pesenti per dire qual è il livello di assistenza, vicinanza, solidarietà, sostegno. E noi qui stiamo assistendo passivi alla demolizione di un tessuto economico che vede di sicuro la bonomia da parte degli attuali governanti. Non c'è contrarietà a fare qualcosa, non si sa cosa fare. Non c'è la contrarietà. È come se ci fosse il vuoto dello zaino circa le iniziative da assumere. Allora dicevo, l'ingrandimento del territorio di riferimento anche per concepire l'attrazione di investimenti. Così come, caro Francesco, noi abbiamo bisogno di misure puntuali che consentano, a favore della persona, la persona che per esempio esce dal sistema scolastico e universitario, deve avere una possibilità di verificare la sua formazione del dire teorica ingrociando il mondo del lavoro con formule, diciamo, di legame all'impresa, non gius lavoristiche, non di contrattualizzazione gius lavoristica. E cioè, lo stagio e il tirocinio, noi la dobbiamo rendere un'opportunità per tutti. Come fare questo? Io faccio una proposta puntuale ed è possibile farla anche su base regionalista. Ma se le regioni non lo fanno, il tempo che passa, passa inutilmente, è bene che ci pensi anche il sistema normativo nazionale. Immaginare che le imprese che non accolgono presso di sé esperienze di borse di studio e di tirocino e di stage non possono poi candidarsi ad avere diritto partecipativo ai bandi di provenienza regionalista o comunitaria, quindi o tu dimostri che hai prodotto dentro la tua azienda, esperienze di stage e di tirocini e dunque hai il diritto a presentare istanza per avere risorse regionaliste o comunitarie, altrimenti no. Attraverso la politica della premialità tu puoi facilitare la correttezza di un comportamento imprenditoriale. Mi devi dimostrare ad esibire che nella tua azienda hai determinato un certo numero di occasioni, di stage e di tirocini. Perché deve essere fatto questo da chi ha una visione democratica delle opportunità della vita privata e collettiva? Perché se non ci pensa il potere pubblico, l'autorità, si verifica che chi ha dentro la famiglia un capofamiglia che ha relazioni ha l'opportunità dello stage e del tirocino, chi ha dentro la famiglia un capofamiglia che non ha relazioni e opportunità, non si realizza l'incrocio, l'ingresso, questa straordinaria opportunità di essere verificati che è lo stage e il tirocino. E noi dobbiamo convincere anche le imprese che non sono un omere ospitare presso di sé uno stagista o un tirocinante. Perché se io ho un modo di conoscere una bravura professionale potenziale e la prendo, me ne rendo conto, mi si aprono anche nuovi scenari di opportunità contrattuali con l'estero e in Val Pescara è successo. C'è un'azienda in Val Pescara che guardando con simpatia i giovani laureati in ingegneria dell'Aquila, che sapevano il cinese, che hanno ospitato l'arabo, attraverso quei ragazzi ospitati in stage e tirocini all'inizio, si sono poi configurati risultati contrattuali straordinari ulteriori nell'altra parte del mondo. Quindi lo stage e il tirocino non determina il risultato del sorriso, la speranza solo nella forza lavoro, ma anche nel datore di lavoro. Quando c'è una cosa giusta non è possibile che la si affidi al caso, c'è bisogno che la norma induca al comportamento migliore. La forza della norma non è in una specie di stabilito che siccome si è concordato allora ce ne dotiamo. La norma deve indurre, deve spingere al comportamento migliore possibile la collettività. C'è la norma, non cristallizza ciò che già si è concordato, ma induce anche a realizzare nuovi comportamenti che sono forieri di positività, sono forieri anche di opportunità migliori per tutti. Noi la faremo a livello regionalista, ma in attesa di poterla fare noi, perché adesso un mese di fatto o non fatto, di vita vissuta o vita non vissuta, rischia di essere mortale per le persone, per le famiglie, per i territori, per la speranza che diventa sempre più filiforme. Vedete, io a volte devo anche rimpicciolire la mia determinazione o la mia motivazione, ma la cosa che mi fa paura a volte è quando rilevo che c'è una specie di cancellazione della speranza, anche in una regione come la nostra. C'è la completa lontananza della motivazione nelle storie di vita delle persone e delle famiglie, perché c'è la paura e la paura in un solo modo, Francesco, la si riesce a mettere all'angolo. Se il detentore del potere pubblico fa fino in fondo il suo dovere, quello è l'elemento che deve determinare la riaccensione. Dicevo ieri in macchina con tre amici mentre andavamo all'Aquila, questa città che è la capitale ancora del dolore, ancora del dolore, Francesco, e noi dobbiamo aiutare questa città ad essere la capitale dei cantieri, delle grue, delle opportunità. Dicevo a questi tre amici, ognuno dei quali fa bene il suo lavoro, chi è all'università, chi è all'impresa, chi è in un ente locale, dicevo che noi quando sappiamo che c'è da qualche parte il bene che si realizza, dobbiamo aiutare questo bene affinché diventi oggetto di notizia, perché se il bene che si fa fa notizia, reinduce, riproduce la fiducia, in questa regione c'è un dramma che è la mancanza di fiducia, che sta allontanando la voglia degli imprenditori a fare investimenti, sta comprimendo financo i consumi in capo a persone che in alcuni paesi hanno anche dotazioni di risparmio, è come se si fosse sospesa la dimensione del tempo della vita, alla politica, al potere spetta di riattivare questo clima di fiducia, scuotendo le migliori idee, facendo in modo che il confronto scateni quanto di meglio si può pensare e poi si può fare. Allora per me è una priorità fare in modo che i 200.000, Goffredo Pettini a Roma chiama soggetti viventi, io che sono cattolico, democratico, io le chiamo persone, 200.000 persone in Abruzzo la mattina si alzano e dedicano il cervello all'indirizzo del futuro, dai bambini agli studenti delle università, abbiamo 70.000 studenti universitari e poi ci sono 130.000 tra bambini e adolescenti, queste 200.000 persone noi dobbiamo renderle oggetto della massima della nostra premura, lo stagio e il tirocinio, le dobbiamo concepire come opportunità per tutti, ai fondi FAS non potranno partecipare quelle imprese che non esibiscono non più solo l'appartenenza ad un agro, o il certificato antimafia che fa la prefettura, o la regolarità contributiva, mi devono dimostrare che presso le loro aziende hanno realizzato un'esperienza di responsabilità sociale. Guardate che non è un'invenzione questa, nel 1953 ce lo venne a insegnare Adriano Olivetti in Abruzzo a Pietranzieri, nessuno lo ricorda perché questa regione ha cancellato anche la memoria. 1953 sul dolore della vita dei partigiani, un gigante del nord del paese che faceva impresa con la responsabilità sociale è venuto ad insediare l'esperienza di una cooperativa con l'idea di scatenare la grande capacità di rimozione dei fatti che non andavano e di costruire il futuro. La responsabilità sociale di impresa nasce così nella storia economica dell'Abruzzo. Noi abbiamo l'obbligo di recuperare queste straordinarie esperienze e guardate l'esperienza culturale e comportamentale quando si fa norma deve incontrare il potere pubblico e noi ci candidiamo a utilizzare il potere pubblico ma non per essere sostitutivi di quelli che ci stanno. Quelli che ci stanno arrivano 5 minuti prima al premio Scanno e noi arriveremo 8 minuti prima e la differenza è questa. Noi dobbiamo essere capaci di produrre il cambiamento delle cose. La famiglia con le guance rosse di Pianofara di Rosciano che fa studiare il figlio alla facoltà di ingegneria di L'Aquila facendo sacrifici non raccontabili per la fatica, dopo che ha finito di studiare che fa la festa con la tovaglia rossa la sera, deve avere il diritto di sapere che il figlio può fare un ostaggio e un tirocinio per capire quanta bravura ha per immendersi nel sistema del lavoro. Non è possibile che poi sia affare di quella famiglia nel suo privato. Io la concepisco così e guardate che io quando parlo in questi termini e quando opero in questi termini mi è sempre capitato di vincere le elezioni. Non ho dovuto mai fare la denuncia alla procura, mai. Non ho dovuto mai costruire inganni contro qualcuno. E guardate sento rumori anche in queste settimane che non so che cosa dovrà accadere. Io voglio vincere le elezioni se la democrazia vorrà la mia candidatura perché noi siamo più bravi a proporre, a prefigurare, a realizzare e a ricostruire un clima di fiducia, di speranza. La sua venuta qui non è la venuta, diciamo così, di esibizione di un'amicizia personale. Tempo fa è venuto un ministro della Repubblica del quale ho metto il nome perché mi sta pure simpatico, però una regione che ha 58 mesi di esperienza di governo l'agenda la deve riempire e appesantire nei 58 mesi precedenti. Noi abbiamo un'idea del tempo di questo tipo, caro Francesco. Se la cittadinanza vorrà, noi ci insedieremo o a marzo o a aprile o a maggio. I primi quattro mesi per precisare l'azione programmatica di governo. I 50 mesi successivi per fare provvedimenti e decisioni, per utilizzare le carpe intestate della regione per colpire i problemi della comunità e fare in modo che si trasformino opportunità. E i mesi restanti per raccontare con le fotografie i risultati raggiunti. Ma mica alla fine tu puoi continuare a invitare i ministri per fare che l'inganno dei sorrisi. Ci sono stagioni nelle quali hai il diritto di prendere impegni e stagioni nelle quali hai l'obbligo di raccontare quello che hai fatto. Qualche settimana fa noi abbiamo scomodato il ministro Orlando e i suoi vertici di struttura per colpire un problema tumorale che ha l'Abruzzo, che è quello dei fiumi. Attraverso la rete, l'attuale presidente della regione, ha saputo di questa nostra iniziativa al Cepagarti e ha convocato in fretta e in furia, dimenticandosi anche di firmare gli inviti, a Teramo per il fiume Tordino per fare il contratto di fiume, mettendo in un imbarazzo incredibile anche i dirigenti attuali della regione che non sapevano che fare di quello che loro avevano fatto. Non va bene questo modo di procedere. Noi vorremmo che il tempo del potere sia un tempo produttivo, guadagnato quasi in anticipo, esercitato in anticipo e questo accade quando si hanno le idee chiare. Quella di oggi deve contribuire ad affidare nelle mani di uno che ha un ruolo speciale a Palazzo Chigi per fare in modo che quel potere diventi una funzione della nostra agenda. Il terzo ed ultimo appunto che voglio segnalare a Francesco Sanna è la sorte della vita delle imprese. Noi dobbiamo fare in modo che la vita dell'impresa, cioè la vita di chi investe per fare impresa, sia una vita facile. Nel nostro menu Abruzzo che ingrandiremo, noi dobbiamo rendere certo che chi viene in Abruzzo ad investire con zero ore avrà il sì. Nel sito precisato dal punto di vista di un piano regolatore degli investimenti, che destina quel sito a investimento economico, la risposta del sistema a chi vuole investire deve essere una risposta favorevole. La Silicon Valley di Steve Jones, perché veniva preferita? Perché lì era nella stessa domanda la risposta, un po' come la pubblicità dei Marriott Hotel. All'ingresso voi trovate, non perché io li frequenti, perché li hanno frequentati altri parlamentari, ma ho letto che è così, c'è all'ingresso una pubblicità. La risposta è sì, dite qual è la domanda. Noi dobbiamo fare un piano regolatore degli spazi di questa regione. Se c'è uno spazio destinato per consistenza come il 33% del suolo dell'Abruzzo, in quel 33% chi si vuole insediare, scommettere il proprio denaro, il proprio tempo, il proprio progetto di vita, deve avere il sì facilmente. E non come accade ancora adesso a Ortona, che è un industriale che ha preso un contratto di 780 milioni nel mondo, nel mondo dei privati, deve realizzare un involucro per fare la prima centrale nucleare in area dedicata in Francia, il pezzo di ferro che ospita questo esperimento. Lo deve fare a Ortona 29 mesi per dirgli di sì o quasi di sì. È il dibattito che si fa a Piazza Unione, ad opera di tante sigle, eh? Con 30 mesi di riunioni che si fa a Piazza Unione, adesso vediamo come rilanciare lo sviluppo. Dall'Abruzzo sono partiti, caro Francesco Sanna, a Via Molise, ai tempi della 488, qualcosa come 600 progetti di investimenti in innovazioni tecnologiche. 150 sono stati finanziati di quei progetti. I 350 restanti, i 450 restanti, si possono prendere in esame e chiedere loro se siete ancora interessati? I vostri progetti di investimento hanno ancora una consistenza di importanza, di vitalità? Ecco, io ragionerei così. Assumendo che il sì a chi fa investimento è un atto dovuto, precisando che il dove si fa l'investimento ha già una vocazione imprenditoriale. Insomma, io immagino che il potere pubblico si debba compiegare rispetto a chi fa investimento, soprattutto in una fase di crisi come questa, dove non c'è scelta. Su questo l'attività, l'assetto normativo, devono dare prova di consapevolezza la regione quando sarà il nostro momento. Ma adesso che abbiamo questo magico momento con un amico a Palazzo Chigi, con una potente attrezzatura di risorse umane, ci sono alcuni, il capo della segretaria di Letta è uno molto bravo, come si ha a Ferrari, me ne parlano molto molto bene e me lo dicono quelli che lo giudicano alla Corte dei Conti, all'Ispettorato General di Finanza Pubblica, mi dicono che sia molto bravo questo tecnico che sta con lui. Immaginare allora a una situazione normativa che facilchi la vita dell'investimento e dell'impresa. Se c'è un investimento e ha una ricaduta occupazionale, come ci ha insegnato De Loro, la distinzione delle due Europe. C'è un'Europa robusta e sana che marcia spedita senza forse il tema delle conseguenze per chi sta a largo della società. C'è poi un'altra idea di Europa che si fa carico anche della ricaduta sociale di una sanezza economica e finanziaria, che si chiama l'investimento che genera sviluppo, crescita. Noi dobbiamo assolutamente rieducare anche questo livello internazionale di dotazione statuale. Non è possibile che l'Europa nell'arco di 15 anni sia passata al massimo dell'applauso, al massimo della problematica. A Pescara insegna un professore di economia politica che si chiama Bagnai che sta diffondendo un pensiero che è razionalissimo. Un'Europa così non ci entusiasma più se non ricomincia a creare opportunità. Allora che concludo? Molto farà anche la regione, molto. Attenzione Dante perché poi indagano me se no è. Toccati la provvigia di tenere l'incidente io che ho indagato. Noi dobbiamo fare in modo che si riprecisi questo patto tra il potere e chi investe, tra il potere e l'economia. La regione farà tutta la sua parte, però vogliamo che il Partito Democratico sia in prima fila a stimolare innovazioni, concepimento anche di ciò che non si è mai visto. Non si è mai visto per esempio che un'autorità portuale che sta a Ancona possa anche occuparsi del porto di Pescara se il tema che manca è la manutenzione. E non mi si può dire che oggi la norma lo impedirebbe. E che cos'è che impedisce alla norma di essere cambiata? Se la manchevolezza è l'attività manutentiva del porto di Pescara o l'intermittenza della manutenzione. Perché non immaginare che l'autorità portuale di Ancona determini un suo estendimento di competenza? Se non fosse possibile fare un'agenzia portuale tra Pescara, Ortona, Vasco e Giulianova, magari mettendo dentro anche Termoli. Io immagino l'innovazione, l'ideazione, la creatività, la creatività anche sul piano normativo. Io non voglio esibire quello che si è fatto a Ravenna. Prima o poi nascerà un Versani senza errori anche in Abruzzo. Ma noi abbiamo il bisogno di concepire un miglioramento della dotazione delle regole del gioco. Sul porto non c'è da accedere le candele. Hanno chiesto anche al Vescovo di dire la messa. Non c'è da fare quello che ha fatto l'assessore, da me stimato Gatti. Non si è fatta la manutenzione alle scuole, si è fatto fotografare lui che ridipingeva le scuole. Quello è il rinunciatorismo più spinto. Noi dobbiamo prendere in braccio la sorte della questione e risolverla. Per me il porto di Pescara ha bisogno di un piano regolatore portuale e di una insistente attività manutentiva e a monte ha bisogno di una bonifica della qualità delle acque del fiume. Ma non è che noi su questo ci abitiamo e facciamo le bambole, senza pettinare le facciamo le bambole. Noi dobbiamo dotarci di una soluzione normativa. A Giovanni Legnini glielo diremo, lo diremo ai tanti parlamentari vecchi e nuovi, lo diciamo a Francesco Sanna, ma nella finanziaria, oltre alla risorsa finanziaria del soldo, se arrivasse anche una risorsa normativa che ci dà maggiore flessibilità, combinabilità, noi porteremmo a soluzione un problema che ci darebbe credibilità ulteriore. Io così immagino il patto. La vincibilità che ci deve riguardare, vincibilità in positivo, in attivo, che ci deve riguardare nei prossimi appuntamenti, secondo me si declina facendoci carico delle questioni. Francesco, grazie che sei venuto, buon lavoro, ti reunteremo molto di qui a quando faremo le elezioni regionali e ti assicuriamo che ti consegneremo una regione amica, sorridente, iscritta sotto, diciamo, la denominazione del Partito Democratico. Grazie. 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 Grazie.